Vestiti di bianco, con le mascherine dove scritto c'era solo un nome, infermiere. E' iniziato alle 10 il lungo flash mob organizzato in tutta Italia dal Movimento Nazionale Infermieri. 36 piazze coinvolte, compresa quella di Cremona, Crema e Casal Maggiore. In città il ritrovo è stato in piazza del Comune, dove a distanza di sicurezza gli infermieri di ospedali pubblici e privati hanno manifestato per rivendicare più dignità per la professione e una valorizzazione della loro categoria che possa passare anche attraverso un miglioramento contrattuale ed economico. Un centinaio di colleghi che si sono ritrovati, ma moltissimi altri dalle corsie degli ospedali, dove i turni hanno impedito loro di esserci, hanno partecipato all'iniziativa postando su Facebook fotografie con l'hashtag Anch'io sono in movimento, una manifestazione a partiti che senza coinvolgimento di sindacati, nata dal basso, che ha avuto tre momenti significativi, il discorso di apertura con l'elenco delle rivendicazioni, il lancio dei palloncini e un sitino in silenzio ricordando anche i tanti colleghi scomparsi a causa del Covid.